Questa è una casa nata esclusivamente sulle esigenze specifiche del cliente, per cui non per il mercato. La scelta dei materiali, la scelta delle finiture è legata proprio al gusto personale, all'abitare quotidiano dei nostri clienti. I nostri clienti sono stati dei veri partner nella gestione del progetto, nella realizzazione e nelle scelte, così come lo è stato l'Ignoalp nella gestione del cantiere e di tutte le operazioni che hanno portato alla realizzazione del manufatto finale. Non è semplicemente una tecnologia, ma è un metodo costruttivo che si sposa molto bene con le esigenze contemporanee dell'abitare. Ho scelto di operare con l'Ignoalp perché, soprattutto facendo riferimento all'architettura prefabbricata in legno, si è dimostrato un'azienda molto predisposta a un rapporto di partnership e non semplicemente un costruttore. Ho trovato che ci ha aiutato molto nel poter vestire il progetto addosso alle esigenze del cliente.